Presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli si è chiusa la tredicesima edizione del Settembre Culturale, con la consegna del premio Settembre Culturale a Sandro Ruotolo, giornalista e senatore della Repubblica. Il sindaco Adamo Coppola e il delegato alla cultura Francesco Crispino hanno conferito a Ruotolo il premio dedicato alla rassegna. Successivamente Ruotolo e il direttore della città di Salerno, Antonio Manzo, hanno presentato il libro Giudizi e pregiudizi quando l'uso improprio della parola fomenta l'odio. Conosciamo un po' tutti le vicende che l'hanno visto contrapposto con le sue inchieste alla Camorra e soprattutto ai Casalesi di Zacaria in questi anni. Come cronista è diventato un simbolo della lotta contro questa piaga sociale. Quanto è inciso realmente questo suo impegno, questa sua presenza attiva in questa lotta? Quanto è inciso è tutto. Nel senso che ho inteso questo lavoro. Pensa che io ho fatto il giornalista per 46 anni e ho sempre pensato a questa idea di giornalismo legata all'impegno civile. Il giornalista, il suo punto di vista lo deve avere. Quello che deve garantire il giornalista è l'indipendenza, l'autonomia. E io questo penso di averla garantita anche se posso aver fatto degli errori, ma sempre in buona fede. Non esistono domande scomode. Il giornalista deve fare tutte le domande. Ed è chiaro che per me la battaglia per la legalità è anche la battaglia per un giornalismo libero. Perché dove c'è la malavita non c'è il giornalismo libero. Perché la malavita è una dittatura. Il clan della Camorra, della mafia sul territorio impone le sue leggi, le sue regole. E quindi noi abbiamo bisogno che la gente sia libera, ma che ci sia un giornalismo libero. E noi oggi in Italia abbiamo più di 20 giornalisti che sono costretti a vivere sotto scorta per le minacce della criminalità organizzata. Allora in questo incontro avete parlato di odio e di pregiudizio, ma secondo lei farà mai posto, al posto del pregiudizio, dell'odio ingiustificato, delle parole usate nel modo sbagliato, ci sarà mai un'evoluzione civile e pacifica del pensiero delle persone italiane e non? Certamente sì, dipende. Non è che ti cade dal cielo, è una battaglia che devi condurre. E quindi la nostra arma è la penna, la nostra arma è il libro. E quindi abbiamo bisogno di informazione, ma abbiamo bisogno anche di cultura, di investire nella cultura. La cultura non è una cosa noiosa. Ti puoi crescere, ti puoi informare, ti puoi formare, anche divertendoti questo voglio dire. Però lo devi fare, perché è la cosa che ci divide dal declino. Il futuro se siamo colti, se amiamo la lettura, amiamo il confronto, abbiamo il dubbio. Ecco, un paese dove c'è il dubbio è migliore di un paese dove ci sono solo certezze. Lei cosa ne pensa di questo settembre culturale? Un'opinione su questa rassegna organizzata dalla città di Agropoli? Beh, quando c'è un momento di incontro, di riflessione, è sempre, come dire, ti arricchisce e poi è un luogo splendido, magnifico, quindi complimenti. Per concludere questa chiacchierata, se vuole un messaggio ai giovani del territorio, magari per migliorarsi? State insieme, divertitevi, ma fate squadra. I problemi non si risolvono da soli, si risolvono insieme. Grazie. Grazie.